Ancora incidenti mortali in Sicilia, due gravissimi, si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Le vittime sono un motociclista, Alfio Bonaccorso, di 59 anni, e un altro 59enne, morto nei pressi di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Il primo incidente, in ordine di tempo, è avvenuto ieri sulla strada statale 114 orientale Sicula. La vittima, Alfio Bonaccorso, era un commerciante di vini con la passione per le motociclette. L'uomo viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata, una Honda 1.3, insieme alla moglie, che adesso si trova ricoverata in prognosi irriservata. Per il 59enne non c'è stato nulla da fare, deceduto non appena giunto all'ospedale Cannizzaro di Catania. Bonaccorso e la moglie sarebbero stati travolti da una berlina BMW di colore bianco. La moto sarebbe balzata finendo all'interno della stazione di servizio, mentre i due a bordo sono finiti violentamente sul selciato. Il secondo incidente, invece, è avvenuto la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, nei pressi di Buseto Palizzolo. Un uomo di 59 anni è morto sul colpo. Il figlio, di 35, è stato ricoverato con prognosi irriservata al Sant'Antonio Abate di Trapani. Ha riportato fratture in diverse parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. La macchina, una Seat Leon, stava percorrendo la statale 187, quando probabilmente a causa dell'alta velocità è finita fuoristrada. Sull'incidente indagano i carabinieri. Sale così a quattro il bilancio delle vittime sulle strade siciliane in un solo giorno. Nella notte tra sabato e domenica, a Palagonia, un 22enne, Samuel Brancato, ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro un palo nella circonvallazione del grosso centro agricolo della piana di Catania. La stessa notte, sulla strada Palagonia Scordia, un 16enne, Antonio Fragapane, è morto e altri tre giovani, due dei quali minorenni, sono rimasti feriti. Il 16enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo il violento impatto dell'auto su cui viaggiava una Fiat Punto contro un muretto. L'incidente si è verificato intorno alle 4.30. Gli altri tre amici, un altro 16enne, un 17enne e un 18enne, sono stati rispettivamente trasportati presso gli ospedali di Lentini e Caltagirone.